Il destino gioca le sue carte. La quarantena forzata impedisce al gruppo della boutique di vedersi e Gabriele sta facendo il suo gioco. Ancora una volta, come durante il golpe su YouTube, qualcosa si muove. Eccoci! Eccoci a casa mia e sto registrando un video. Sono io, Gabriele, ci siete voi e c'è anche Pallino. Eccoci. Allora vi faccio salutare Pallino. Vieni qua Pallino. Eccolo. Salutiamo i nostri amici followers. Vieni qui col musino che mi chiedono sempre tanto di te. Con la zampetta salutiamoli. Ecco qua. Allora, perché questa è una cosa molto importante per loro. È un saluto che si fa tra due specie diverse, tra umani e gatti, tra mammiche. Facciamo vedere come si fa. Allora, guarda in camera Palli. Guardate tutti bene così. Avete capito? Ok. Palli. Adesso invece passiamo a un'altra parte del video. Finto volto, di carta pesta, legno o altro materiale. È generalmente fornito di fori per gli occhi e la bocca. Allora, guardate le carte. Guardatele bene, le vedete tutte? Ok. Può essere indossate a scopo rituale, bellico, carnevalesco o semplicemente per non farsi riconoscere. Palli ci ha aiutato con il trucco. Adesso raccolgo il quadro che è andato da tutto bene. Iscrivetevi, lasciate like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Dovevo prendere più candele. Ciao. 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 Grazie.